Ma non è stata una cosa, però Giona quando è l'evento del pesce, capisce, si converte. A cosa si converte? Ha capito che a voler fare il furbo a tutti i costi, ci ha rimesso. E finito l'evento del pesce, che è immagine della morte praticamente. Lo ringrazia che lo tira fuori e alla fine dice, io farò quel che ho promesso. Ma cos'è che ha promesso? Di fare quel che vuole Dio? No, ti farò sacrifici, ti farò lodi e decide lui per quello che deve fare per Dio. Non è disposto a fare quello che Dio vuole da lui, lui decide quello che è bene che lui faccia per Dio. E quello lo farò, e dice, sarò fedele alle promesse che ho fatto, nel mio sarò fedele alla tua missione. Quello per i ebrei è normale. No, ma nel senso rispetto agli altri funcini che... Lui si ritiene, bravo. No, ma nel senso rispetto agli altri funcini che ho fatto, nel senso rispetto agli altri funcini che ho fatto,